Musica 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 Chi sceglie testa che prende croce testa croce ballo a campo salutatevi signori poi iniziamo Musica 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 Provevo! Vamoro! Vamoro! Grazie, Grazie! Bravo. Soltiene! Grazie! Cambio! Cambio! Grazie! Bello! Bravo! Bravo Federico! Bravo Federico! Fittino! Due! Vola, ora, ora! Ho fatto telefonare il stile assaggi! troppo telefonati bravo ecco va bene così una distanza a 10 grazie 1 2 torniamo non usci torniamo indietro dai 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 blu siamo attraffa con 100 metri dai 2 minuti così dai 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 c'è a posto basolo bravo dai dai ciao non è vero 1-5 andiamo 10-9 poi va più la 1 1 vai bravo 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 aspetta aspetta bravo 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 1 101 bel distance off nag High ro Experian Ehi, uno, vamos, senza ballo là, senza ballo là. Un attivo doppio! Alla torna! Alla torna! Senza pallo! No! Uno! Tres! 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 Tres!